È un parco importante per la nostra comunità anche se bisogna ancora farlo conoscere e farlo visitare a molti dei cittadini di Rubiana perché oggi se parliamo con i ragazzi delle scuole elementari probabilmente non tutti conoscono la nostra famosissima euforbia gibelliana che cresce praticamente solo nel nostro parco se non in un parco vicino. Nell'Unione Montana Alpigraie dove si uniscono i comuni di Viu e di Rubiana, il Colle dell'Ise è importante anche per la resistenza e quindi per il comitato Colle dell'Ise che sviluppa il territorio portando i ragazzi delle scuole su cui dobbiamo puntare per fare non solo ricordare quello che è successo al Colle dell'Ise ai partigiani ma visitare un territorio pieno di biodiversità. Questo è il nostro scopo, la nostra idea di futuro del Colle dell'Ise che insieme alla città metropolitana, al comitato Colle dell'Ise, agli operatori turistici, all'Unione Montana e naturalmente i due comuni che tengono insieme il parco svilupperemo sicuramente negli anni un progetto che unisce la cultura, la memoria, il ricordo e soprattutto speriamo nuove attività che andranno dal outdoor al trekking, alle ciaspole, allo sci di fondo che diciamo che siamo in un territorio dove unire tutte queste cose all'interno di un parco e di una zona montana è importante per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio.